Con viva cordialità auguro a tutti di vivere una santa Pasqua con sentimenti di fede di speranza e di carità con sentimenti di fede per sprofondare sempre più nel mistero pasquale di Cristo, per partecipare al suo dono di essere trasferiti nel suo regno di giustizia, di pace e di amore e per incarnare la nostra testimonianza nella storia e nella vita di ogni giorno. Consentimenti di viva speranza per lasciarci condurre dal Signore, illuminare da Lui e impegnarci a compiere anche attraverso le urgenze della storia, le sfide della vita, ciò che il Signore vuole farci sperimentare e compiere per noi, in noi e attraverso di noi, con intima carità per poter crescere sempre più nella vera comunione con il Signore e nell'esercizio della carità sociale, con l'impegno di ricercare la pace, l'unione e costruire la civiltà dell'amore. Auro a tutti una santa Pasqua di pace, di bene e di gioia.